Inizia la sua carriera di attrice ancora bambina, lavorando in teatro e nella pubblicità. Esordisce al cinema con una piccola parte nel film Lacrime d'amore, del 1954. Bionda, minuta e graziosa, è attivissima fra il 1954 ed il 1967, interpretando ruoli da caratterista in una gran quantità di film. Per lo più bimovie, che non le regalano la celebrità, spesso richiesta da Fellini per sostenere gustosi ruoli di contorno, appare anche in produzioni di rilievo, come ad esempio Ote e un mezzo, 1963, e Giulietta degli Spiriti, 1965, entrambi di Federico Fellini. Dopo il matrimonio, 1967, con l'attore e produttore Lucio De Santis, si ritira dalle scene, lavorando per alcuni anni come segretaria di produzione.